Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quartariti. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con una tragedia che si è verificata stamane a Cava dei Tirreni. Un poliziotto di 35 anni, Michele Avella, ha perso la vita in Viarti e Mestieri in un tragico incidente stradale. Vediamo il servizio. Dramma stamane a Cava dei Tirreni per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 7 in Viarti e Mestieri, la strada che da Santa Lucia conduce in direzione Nocera Superiore. A perdere la vita un 35enne cavese, Michele Avella, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio da pochi mesi presso il commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni. A quanto pare, stando alle prime indiscrezioni sulla dinamica del drammatico sinistro, il giovane poliziotto, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, procedeva in direzione Cava dei Tirreni a velocità sostenuta, quando, poco dopo l'ex bruciatore, per schivare un camion fermo sulla carreggiata, ha invaso la corsia opposta. Dall'altro lato della strada, sul marciapiede, invece stazionavano a Citroen C4 Aircross. Probabilmente, a causa dell'alta velocità, il giovane, per evitare il camion, ha perso il controllo della motocicletta ed ha impattato contro l'autovettura. Purtroppo, il violente impatto non ha lasciato scampo a Michele Avella, che è morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza, diretti dal tenente Francesco D'Assisi Longobardi, i militari del reparto territoriale di Nocere Inferiore, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Purtroppo, i sanitari del 118, giunti in viarti e mestieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Per avere più chiara la dinamica dell'incidente, gli inquirenti hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dalle quali emerge che il camion fermo sul ciglio della strada, dopo l'incidente, sarebbe scappato. Ora gli inquirenti sarebbero sulle sue tracce. Michele Avella, molto conosciuto nella città metelliana ed in particolare nella frazione San Pietro di cui era nativo, lascia la moglie e una bambina di pochi mesi. Increduli anche i colleghi del commissariato di Cava dei Tirreni, dove, nel giro di poco tempo, si era fatto apprezzare e ben volere da tutti per il suo lavoro. E restiamo a Cava dei Tirreni, dove la famiglia di Arianna Manzo ha lanciato un appello all'ASL Salerno e al Cardarelli di Napoli. Basta con i rallentamenti burocratici. La famiglia di Arianna Manzo lancia un ultimatum all'ASL di Salerno e al Cardarelli di Napoli. Dopo qualche passo in avanti per la chiusura dell'atto transattivo e l'accordo di risarcimento che si aggira intorno ai 3 milioni di euro, la storia di Arianna subisce un'ulteriore battuta d'arresto. Ricordiamo che Arianna, giovanissima ragazza cavese che a breve raggiungerà la maggior età, è stata vittima di mala sanità quando aveva appena 3 mesi di vita. Una terapia farmacologica non adatta alla bambina l'ha portata a subire gravissimi problemi di salute. Diventata tetraplegica, sorda ed ipovedente, la ragazza è accudita giorno e notte da papà Eugenio e mamma Matilde. Ma per lei servono cure, assistenza continua e tante spese che due genitori non possono sostenere all'infinito. Un calvario giudiziario durato anni che dopo vari intoppi burocratici sembrava aver trovato una quadra. Il Cardarelli di Napoli si era reso disponibile a risarcire la minorenne, mentre l'ASL di Salerno, dopo qualche richiesta avanzata sulla restituzione delle spese legali, ha fatto un passo indietro, dichiarandosi disponibile a rinunciare alla somma. Ma ad oggi è ancora tutto fermo e per questo motivo, secondo il legale rappresentante della famiglia Manzo, Mario Cicchetti, la situazione non è più accettabile. Bisogna accelerare i tempi. C'è un limite anche alla decenza. Siccome questa bambina è ormai prossima al diciottesimo anno di età, è una bambina che ha visto e ha affrontato undici anni di giudizio. Il primo grado ha vinto, il secondo grado in corte appello sarà solo prossima a confermare la sentenza del maxi risarcimento. Avevamo considerato l'ipotesi transattiva semplicemente per cercare di accelerare i tempi di una giustizia che giustamente o ingiustamente li vede un po' più lunghi per consentire alla piccola di vedersi garantite quelle cure che le sono necessarie, per non dire indispensabili, ormai alla sopravvivenza. È una situazione di stallo completa, ingiustificata, ingiustificabile e conseguentemente inaccettabile da parte della famiglia. Quindi era necessario questo ultimato. La famiglia ha posto un termine ultimo che è quello del 15 febbraio, cioè martedì prossimo. La nostra disponibilità per sottoscrivere l'atto è totale, cioè raggiungere Napoli la direzione generale per la sottoscrizione in originale di quest'atto è totale. Quindi io ho ripetito la disponibilità della famiglia anche nella giornata non solo di domani, ma anche di domenica. Quindi i giorni sarebbero stati 5 da ieri, attendiamo un loro riscontro. L'altro invito era rivolto al Cardarelli, cioè quello di pagare entro la prossima settimana, il 18, quindi entro il 18 febbraio, quella somma, quell'anticipo che la direzione generale si era già resa disponibile a pagare alla minore un acconto di un milione e mezzo. E oggi il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare attraverso la pagina Facebook dell'ente per l'informativa sull'emergenza Covid-19. Ascoltiamo i punti salenti dell'intervento del Governatore. Grazie a Dio la situazione va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia, migliora anche nella nostra Regione. Il Governo decide che da oggi non è obbligatorio l'uso della mascherina all'esterno. In Campania abbiamo deciso diversamente. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina anche all'esterno. Non è un grande sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal Governo nazionale, finzioni e prese in giro. Dopo due settimane in cui non aveva potuto tenere la propria informativa del venerdì, per motivi contingenti, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare. Anche della situazione Covid. Pochi giorni dopo aver emesso l'ordinanza che obbliga ancora i cittadini campani a indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto, a tempo indeterminato, diversamente da quanto potrebbe avvenire in quasi tutte le altre regioni d'Italia, per la prima volta De Luca percepisce un miglioramento della situazione generale anche in Campania, anche sul fronte delle vaccinazioni. Ma insiste con la prudenza, perché il rischio, a suo parere, è dietro l'angolo e nel motivare l'ordinanza stessa ha dato la sua chiave di lettura. Non è niente affatto facile distinguere l'assembramento dal non-assembramento. Intanto risultano essere 6.592 i positivi al Covid-19 riscontrati nell'ultima verifica, sui 51.993 test effettuati. Gli ultimi deceduti sono 17, i posti lettori terapia intensiva occupati sono 72 su 812, mentre quelli di degenza occupati sono 1.248 su 3.160. De Luca ha preannunciato anche un'avvertenza contro il Ministero del Lavoro per contrastare il fenomeno del precariato. Ha contestato il fatto che l'Italia abbia un'autonomia energetica intorno al 10%, mentre altri paesi, tra cui la Francia, ce l'hanno più alta. E inoltre ha parlato anche di quello che si è visto in sede di elezione del Presidente della Repubblica, appuntamento al quale egli stesso ha partecipato come grande elettore e preferirebbe un ritorno al sistema proporzionale, magari alla tedesca, con uno sbarramento quando il partito è al di sotto del 7%. In pratica il partito al di sotto di tale soglia non avrebbe diritto ad alcun seggio in Parlamento. Il mondo della scuola, secondo De Luca, sta avviandosi verso la normalità in Campania, eppure, a giudizio del governatore, a gennaio c'era il caos. Stiamo uscendo da questa ondata di epidemia. Arriveremo a vivere la primavera in maniera normale e poi occorrerà avere delle certezze da qui a qualche mese, da parte della comunità scientifica, ha detto il Presidente. Già qualcuno ipotizza che stiamo entrando ormai in una nuova fase che dovrà essere affrontata, come capita per i problemi influenzali, con una vaccinazione annuale. Beh, se è così, tutto sommato non è un grande sacrificio. Avremo certezze da qui a qualche mese. Intanto cominciamo a vivere e a costruire di nuovo il futuro, a prendere nelle mani la nostra vita. Controlli sulla litoranea di Eboli da parte dei carabinieri della locale compagnia. Arrestati due pusher e sanzionate 15 prostitute. Nel corso dell'ultima settimana sono stati svolte diversi servizi di controllo del territorio lungo la fascia litoranea del comune di Eboli. Da parte dei carabinieri, diretti dal Capitano Emanuele Terlizzi. L'attività incentrata sullo svolgimento in contemporanea di più posti di controllo ha permesso di identificare circa 430 persone e 331 mezzi, di cui 45 di interesse operativo, per precedenti, per reati di tipo predatorio o di spaccio di stupefacenti. Inflitte 30 sanzioni per violazione al codice della strada. Numerose sono state anche le perquisizioni domiciliari, con l'ausilio di unità cinofile, che hanno portato all'arresto di due fratelli marocchini di 33 e 21 anni, trovati in possesso di 80 grammi di marijuana, occurtate in un cuscino. Tre le persone segnalate alla prefettura perché assuntori di sostanze stupefacenti, e 15 infine le prostitute sanzionate in zona. E torniamo a Cava dei Tirreni. In occasione del giorno del ricordo, nel pomeriggio di ieri, al Palazzo di Città, si è svolta una commemorazione alla presenza del sindaco Servalli di alcuni assessori e consiglieri comunali. Sono stati inoltre organizzati da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale due momenti in memoria dei martiri delle foibe. La città di Cava dei Tirreni, giovedì 10 febbraio, ha celebrato il giorno del ricordo, istituito nel 2004 in memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, nonché per ricordare l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra. A Palazzo di Città sono state esposte le bandiere a mezz'asta, e nel primo pomeriggio, nella sala di rappresentanza, si è svolto un breve momento di raccoglimento alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli di alcuni assessori e consiglieri comunali e di don Andrea Pacella. È una giornata importante, una giornata che ricorda un momento particolarmente drammatico, tragico, della storia recente del nostro paese e dell'Europa. E ci fa riflettere, non soltanto doverosamente sulla memoria, ma ci invita a una riflessione anche sull'oggi, dove eventi di guerra, non molto lontano da noi, si sentono, si sentono anche con forza e con grande preoccupazione da parte dell'intera comunità internazionale. Sembra che la lezione della storia non sia mai sufficiente per gli uomini, per le comunità. E quindi giornate come queste assumono, dal mio punto di vista, soprattutto questo valore, la memoria, ma anche la stringente attualità, la riflessione sul passato che ci deve consentire di comprendere bene quali sono i grandi pericoli del presente. Abbiamo utilizzato la preghiera che nel 1959 scrisse l'Arcivesco di Trieste, proprio per ricordare queste vittime. La proposta di Gesù è creativa ed efficace, cioè l'amore combatte l'odio, combatte la violenza e quindi solo con l'amore si può vincere. La giornata del ricordo vuole soprattutto costituire un momento nel quale la comunità nella sua interezza deve fare testimonianza degli eventi tragici che hanno purtroppo segnato la storia del nostro paese, dell'Europa, in un momento estremamente complesso. ma deve costituire necessariamente anche un monito per le nuove generazioni. Tutti siamo chiamati a dare centralità alla dignità della persona umana in qualsiasi ambito noi operiamo, in ambito politico, in ambito sociale, in ambito culturale. Il messaggio che deve passare anche attraverso questa giornata è che nessuno può mortificare la dignità della persona umana. La vita è il bene più grande che il Signore ci ha donato e che tutti insieme dobbiamo avere il dovere di difendere. Presso i giardinetti della stazione di Cava dei Tirreni, recentemente intitolati ai Martiri delle Foib, Fratelli d'Italia e il Movimento Giovanile e Gioventù Nazionale hanno invece deposto una corona di fiori prima di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Successivamente, presso il Salone d'Onore del Palazzo di Città si è tenuto un convegno dal titolo Il Giorno del Ricordo mai più Esul in Patria. Ho ritenuto opportuno impegnarci come partito Fratelli d'Italia come Movimento Giovanile e Gioventù Nazionale e il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di organizzare questi due momenti. L'abbiamo fatto di nostra iniziativa perché tendenzialmente purtroppo dico io questa giornata non viene vissuta con molta enfasi da parte delle istituzioni noi riteniamo che sia importante ricordare tutte le vittime e non creare vittime di serie A e vittime di serie B. Abbiamo organizzato questi due momenti il primo sarà una deposizione di una corona quindi un momento simbolico il secondo è un convegno per diffondere anche un po' di cultura e durante il convegno a cui partecipano persone di un certo spicco come il professore Marenghi il professore Mazzetti il professore Iorio anche il figlio del cittadino illustre della città di Cava dei Tirreni Pietro Santin Giampiero Santini il figlio parteciperà l'architetto che porterà una testimonianza perché il padre è stato figlio di quella storia spero che in qualche modo con questa piccola pietra nell'oceano si riuscirà a smuovere le acque e fervono i preparativi a Conca dei Marini per l'accoglienza della reliquia di Sant'Antonio da Padova è tutto pronto a Conca dei Marini per l'accoglienza della prodigiosa reliquia di Sant'Antonio ad essere ricordato a febbraio infatti è il ritrovamento della lingua incorrotta di Sant'Antonio oltre 750 anni fa tanto amato e venerato dai fedeli rappresenta per la nostra comunità un eccezionale momento di grazia che vogliamo vivere pienamente affinché possa ispirarci ad opere buone ha commentato il padroco Don Andrea Alfieri la lingua strumento ed emblema della sua predicazione voglia essere per noi uno stimolo a professare la nostra fede senza indugi e a trasmettere a tutti il messaggio cristiano dopo il solenne triduo di preparazione da sabato 12 a lunedì 14 febbraio con il Santo Rosario la Santa Messa alle 17.30 il clou dell'evento che di certo rimarrà impresso nella storia della chiesa di Conca è martedì 15 febbraio alle ore 17.30 infatti è previsto l'arrivo e l'accoglienza della proteggiosa deliqua del Santo Taumaturgo a seguire alle 18 la celebrazione liturgica un breve momento di adorazione e il canto del Tedeum le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulle pagine social del centro televisivo parrocchiale di Conca dei Marini un altro importante progetto lanciato da pochi giorni dalla comunità parrocchiale guidata da Don Andrea Alfieri che già sta raccogliendo notevoli consensi ed ora lo sport calcio il periodo di apertura delle liste tra i dilettanti si è concluso ufficialmente ieri la Cavese ha ceduto due giocatori offensivi alla Casertana nei dilettanti il calciomercato è finito ieri e proprio giovedì 10 febbraio il centravanti Augusto Diaz ha cambiato maglia ed è passato dalla Cavese alla Casertana e poche ore dopo di lui lo stesso destino è toccato al centrocampista Tattanassi e Kosovan i due proseguiranno la stagione senza lasciare la Serie D nessuno lasciava presagire sino a due settimane fa che potesse esserci un cambio di maglia per entrambi ma dopo la riapertura delle liste tra i dilettanti decisa dalla Federcalcio qualcosa è cambiato e ha portato a una serie di movimenti di giocatori da un club all'altro tra cui gli stessi Lomasto e Foggia a loro volta trasferitisi proprio alla Cavese dall'Arezzo per Dias sette gol nella prima parte di stagione uno su calcio di punizione tirato di sinistro in Coppa Italia con i Portici e poi sono arrivati anche i sei gol in campionato uno a San Cataldo sul lancio di Gabrieli uno a Cava contro il Giarre su calcio di rigore uno contro il Biancavilla in ripartenza uno a Licata sul rigore ripetuto ancora un altro contro la Real Aversa realizzato di testa l'unico e infine il sesto centro siglato su situazione di contropiede a Lamberti contro il Cittanova proprio quello che è successo dopo il gol al Cittanova è stato ciò che ha incrinato il rapporto tra Dias e una parte della tifoseria di Cava il gesto del dito davanti alla bocca rivolto dal giocatore verso la tribuna inferiore invitando quasi quei tifosi a fare il silenzio non è stato perdonato da tutti la società Aquilotta lì per lì lo ha condannato chiedendo anche scusa per lui poi il direttore Fusco negli ultimi tempi è venuto a sapere dell'interessamento per il suo centravanti da parte di altri club e ha ingaggiato quindi l'altra punta Ciro Foggia in qualche modo cautelandosi fino all'ultimo però Dias ha giocato da grande professionista cambia maglia anche Kosoman che ha avuto il merito di segnare due gol nelle prime due apparizioni con la casacca Aquilotta in campionato uno al Rende e l'altro a Erice con il Trapani poi è rimasto sempre a secco l'Ucraino è stato condizionato da infortuni e scelte tecniche che ne hanno messo a rischio l'impiego schierato prima come punta da Ferazzoli il giocatore ha cambiato ripetutamente ruolo in campo mister Troise ha dapprima cercato il modulo giusto per far rendere al meglio la Cavese utilizzando Kosovan prima come mezzala poi come esterno poi come trequartista a supporto di Allegretti e poi dopo l'ultima gara disputata a Sant'Agata ha lasciato il calciatore in panchina contro il Cittanova un nuovo infortunio ha lasciato Kosovan ai box nello scorso gennaio ma evidentemente dopo il suo recupero non vi erano più certezze riguardo al suo utilizzo detto questo domenica la Cavese affronterà la San Cataldese al Simone Talamberti e dovrà sostenere il Tour de Force di tre partite in otto giorni ma la stessa cosa non succederà per il suo avversario nella lotta per la promozione appunto il Gelbison che domenica 13 giocherà col Biancavilla in casa e poi dovrà tornare in campo direttamente domenica 20 al Morra con il San Luca mercoledì 16 nel giorno in cui la Cavese giocherà sul campo del Giarre infatti i Vallesi riposeranno perché avrebbero dovuto affrontare l'escluso FC Messina quindi la Cavese giocherà domenica con la San Cataldese mercoledì col Giarre e domenica 20 con il Troina al Simonetta Lamberti conterà dosare le energie in modo tale da ricavare il massimo che c'è in palio nuovo appuntamento sportivo con la rassegna camminare per conoscere targata centro sportivo italiano si terrà domenica 13 febbraio torna il circuito camminare per conoscere il centro sportivo italiano Cava ha infatti comunicato che sarà fissata per domenica 13 febbraio la seconda prova regionale di trekking in collaborazione con l'associazione Alema e con mani amiche meta della manifestazione è la croce di Saragnano nota come porta del paradiso si partirà dalla frazione Alessia di Cavaretti Reni precisamente dalla località San Liberatore la gara avrà inizio alle ore 9 con molti atleti già iscritti la partecipazione è gratuita e parallelamente ci sarà anche la manifestazione di corsa campestre valevole come prova regionale ce ne parla Pasquale Scarlino nella sua qualità di dirigente CSI regionale Facendo seguito a quella che è stata la prima la prima prova riproponiamo questa seconda manifestazione camminare per conoscere una di una passeggiata all'interno di questo paesaggio incantevole quale può essere Vale San Liberatore per raggiungere raggiungere la croce di Saragnano quindi l'appuntamento è per domenica mattina alle ore 9 per per le le iscrizioni laddove c'è gente che arriverà all'ultimo momento ma già ci sono diverse diverse iscrizioni facendo seguito anche a quello che è stata la prima prova e dopodiché si partirà per questa per questa nuova bella avventura vorrei anche sottolineare che all'interno di questa manifestazione una volta che gli amici che sono partiti per questa per questa passeggiata sempre in Valle San Liberatore si svolgerà la prova di corsa campestre una prova competitiva di corsa campestre dove ci sono atleti nel centro sportivo italiano di Cava ma anche di altre società che all'interno del percorso di valle si cimenteranno in questa in questa gara e questa era la nostra ultima notizia grazie per averci seguito l'informazione di RTC Quarta Rete torna più tardi ma vi ricordo che potete seguire tutte le nostre notizie e tutte le edizioni del nostro telegiornale sono disponibili sul nostro sito www.rtcquartarete.it Grazie a tutti